Ascolta Nachero, siamo in riserva, tavolo su metterci in quello di gasolio, voglio rendersi a po' a Firenze a fare i che scusa Nachero. E voglio andare ai franchi a vedere la partita, gioco alla Fiorentina, almeno voglio anche lasciar Pina, l'attacco in camera, la sciarpa, non so se mi spiego. Poi si va a casa di Della Valle e ora si batte nel muro, Della Valle e tutta la società mi fanno cacare ai cazzo, ma questo è un bernardeschi che è lavoroso, ma poi voglio dire, ma non gli fregono un cazzo a loro di tifoso, loro non gli fregono niente, loro guardano la società a sorte, Della Valle gli importa una sega, hanno fatto il suo, gli hanno investito, ma non è che investano per noi, gli investano per sé, gli importa un cazzo, però io altronde... Ma cambia squadra, ven via, comunque ora dicevo avete comprati il giocatore del Lenovo, dice questo è uno bravo, voglio vedere che può fare, vuoi iniziato a fuoco, un vetto e poi guarda giù la classifica, ti fa Milan, te lo dico io. E tu sei poco Milan, io ho il sangue viola, ma no viola chiaro, viola scuro. Voi non ci avete anche più bernardeschi, ma lo vedi vanno via tutti, ven via. Viamo, lascialo fare, lascialo fare. Egli è un fiorentino, può sempre avere ragione, più le sale sono fatti. Paolo Sosa, anche qui lo vedi, bell'elemento, si è.